Nel 1993 la mafia rimane con leonesi. I corleonesi controllavano le strade, maneggiavano esplosivi, armi e un esercito di 28.000 uomini pronti a sparare. In 30 anni di conflitti si erano espansi come un virus, trucidando nemici, amici, poliziotti, magistrati, giornalisti, uomini di Stato e persone qualunque. Se l'immagina perché l'ho fatta chiamare? Volevo guardarla negli occhi. Lo faccio ogni volta quando chiedo a un magistrato di entrare nel pool antimafia. Signore, è arrivato il momento di sporcarci le mani. Perché mi pare che non stiamo squintando come siamo. Come resisti tu? I corleonesi non hanno nemici, giusto? E se ci sono, ammazziamo a tutti. Nel 1993 lo Stato era in guerra. E io? Io ho giunto la mità di lì megliorna. Mi trovavano in un bosco scuro, scuro. Che non trovava chiù la via che torna. Dottore? Accetto. Che non trovava chiud